bella a tutti gli ultimi gamers io sono giusto e benvenuti in questo mio nuovo video quest'oggi siamo su warriors oroshi 3 ultimate allora vi spiego subito non devo portare un gameplay non è un gameplay ma è un video così per farvi gli auguri di buon natale vi lascio delle clip bonus da questo pezzo vi auguro di buon natale mangiate tanto fate bene mangiate tantissimo scoppiate fino a mangiare mandate lasciate dei commenti quello che ricevete come regali per natale se volete qualunque cosa io se posterò delle foto se riceverò qualcosa di carino spero noi ci vediamo in un prossimo video passate le buone feste ciao a balli va a balli va aiutare arrivate ma black statevi due aiutami siamo da vita siamo da vita siamo da vita aiutami aiutami se prego aiutami christian non mi fa morire chi c'è sta dentro non lo so che ne so che io so per terra la porta è aperta dai dai mi fa aiuta coriii boh io non ci ho attorno mentre passa non faccio che sparava un tempo mentre passava ti sei giusto no non ricordo questo che fa è stato proprio... è stato proprio... è stato proprio... è stato proprio detto Cristian sta a questo... And I'll tell you all about it when I see you again Oh Non è caduto, non è caduto, corri, corri Mamma mia È caduto, è caduto È casca a noi, guardalo Aspetta, io faccio così Buon uomo Ma, stia fermo Ma è tipo con lo scudo dovevo fottere i cazzi delle tue frecce Ho mancato Ho mancato Benz, 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 benz Difendete le gol Sto davanti E niente, hanno rianimato, hanno rianimato, guarda, stanno qui dietro Mamma mia, che volo Mamma mia, ho visto in telecamera io Io non ho visto in telecamera Che male Ciao